buongiorno a tutti in questo video vi mostro come ho realizzato il tulipano vediamo subito cosa ci serve eccoci qui con il materiale che serve allora il filo io di solito uso questo da 0 30 35 di ferro rivestito però vi consiglio di utilizzare anche un filo più spesso che passi attraverso le perline quindi io ho utilizzato e poi lo vedrete poi nel video questo video da 0 50 questo è un rame argentato e questo da 0 80 o anche di più se per caso vi passa sulle perline poi la bacchetta per montare il fiore ovviamente la gutta perca verde ovviamente per fare il gambo vi potrebbe servire un reghello giusto per prendere un attimo le misure il mulinello se decidete di fare un petalo monocolore perché se lo fate di colori diversi ovviamente dovete mettere le perline man mano che le realizzate e ovviamente la tronchesina per i fili più grossi altrimenti anche una forbice eventualmente una pinza per aiutarvi e poi le perline ovviamente allora per il centro ci servirà il giallo e il nero e poi vi serve un colore per fare i petali in questo caso specifico io sto usando questo rosso molto irregolare e del verde per le foglie poi verde vedete voi quello che avete io avevo questo e questo uso ok è tutto vediamo come fare eccoci qui allora cominciamo da realizzare i petali allora io ho già infilato perché altrimenti ci mettevo una vita le perline sul filo allora ne ho inserite circa 90 centimetri circa perché poi dipende da quanto grande volete fare un petalo comunque circa 90 centimetri vi servono allora vi insegno la tecnica del palo vedete qui 90 centimetri vi insegno la tecnica del palo io ne ho viste due tecniche diverse e ve ne insegno entrambe questa diciamo che va bene per i petali per le foglie secondo me no però dipende forse dallo spessore del filo che utilizzate allora io non ho ancora tagliato il filo è ancora attaccato alla bobina l'inizio insomma del filo fate tenetevi circa 20 centimetri rigirate ok 20 25 tenete conto che poi diventa una parte di gambo ok ad un certo punto circa 10 15 centimetri 10 12 in realtà vi bastano praticamente tenete fermo ok tirando girate in modo da creare da bloccare in modo che le perline poi non passino ok questo poi diventerà il il gambo del del fiore dovete tenervi ovviamente una parte abbastanza lunga dall'altra parte perché questo sarà il vostro palo attorno a cui gireremo le le perline allora io ho la fortuna che queste perline ne taglio un pezzettino perché sennò qui non passeranno mai che queste perline per quanto siano irregolari riescono riesco a farle passare su entrambi i fili quindi allora per come ho fatto grandi i petali io ho iniziato con due centimetri e mezzo di perline più o meno e io vado un po a occhio perché tra l'altro ho usato queste perline irregolari di cui non sapevo cosa far me ne è detta palesemente e quindi ho detto va bene uso e poi ciao allora vedete che tendono comunque a scendere perché è molto stretto il filo però sono anche troppe prendo il righello giusto per o se avete già fatto un un petalo ne prendete un altro ok togliamo qualcosina togliamone un po ok allora adesso qui diventa il problema applicato perché queste scivolano ma non importa allora questo mi farà da palo ok questo è il filo che cominceremo a girare attorno a questo primo che abbiamo segnato allora il senso è questo è l'unico momento in cui dovete avere un po di pazienza perché non è fissato niente ok ok una volta che avete raggiunto la base quindi la parte qui sotto dovete semplicemente rigirare il filo attorno al palo diciamo così più stretto possibile perché altrimenti non vi servirà niente rifacciamo il passaggio di raddrizzato un pochino il filo l'idea è sempre quella di tenerlo dritto e di coprire di nuovo la lunghezza ok questo è il senso e rigirate ok e fondamentalmente andate avanti così allora io di solito mi appoggio perché vado un po meglio qui in base alle perline ovviamente dovete valutare un attimo quelle che coprono ok vedete e continuo così adesso io vi velocizzo il video perché tanto insomma alla fine dovete fare sempre lo stesso movimento lo stesso giro dovete solo io cerco di farli vicini non lascio come ve la etalo in sé viene più più pieno quando poi lo sistemate ok adesso sentirete anche l'aereo soprattutto da una vita che non si sentiva un aereo questo intranosso è un aereo militare allora l'unica cosa che a me non piace questa tecnica che dovete fare attenzione a stare dritti con questo filo essendo da 0 30 35 tende ovviamente a storcersi quindi non è proprio il massimo ok e andate avanti così fino a che raggiungete la grandezza del petalo fondamentalmente che volete ok questa parte invece che eccede che è praticamente il palo io faccio un giro giusto qui per per fissarla adesso io non ce la faccio onestamente con la telecamera davanti cerco di farvi vedere ma non riesco a stringerla come dovrei riesco che fondamentalmente va rigirata almeno io la rigiro così perché ok faccio veramente fatica comunque la rigiro su questo e su altri due due fili interni e poi la chiudo ok l'ho rigirata non se sì ok e taglio l'eccesso adesso eccesso lo tengo per per dentro proprio in italiano cerco di spingere giusto per non graffiarmi ok e praticamente il petalo è realizzato oh che belle anche le notifiche aspettate che le spengo ne dovete realizzare sei perché il petalo ne ha sei quindi armatevi di pazienza li fate e adesso realizziamo insieme la foglia con la tecnica del palo come piace a me allora io mi sono accorta ho queste perline verdi le vedete scurissime poi faccio una foto e ho notato che vanno si infilano tranquillamente sul filo da 0 80 che che sto usando e vi faccio vedere la tecnica del palo come la conosco io allora io ho utilizzato questa perché la foglia del tulipano è piuttosto grande e quindi un filo sottile come questo onestamente non regge il peso di tutte queste perline quindi la fortuna diciamo che regge comunque che si infila forse anche sul millimetro allora questo è il nostro palo io la tecnica l'ho sempre vista fatta così e continuerò a fare così la tecnica del palo allora con un altro filo io questo da 0 50 sempre di rame argentato ho già infilato fate conto circa un metro e mezzo di perline la tecnica del palo fondamentalmente è questa voi avete il palo allora mi tengo tipo un 10 cm giusto per fare la stessa lunghezza così poi lo arrotolo attorno a quello centrale ok la tecnica esattamente la stessa dobbiamo fare come per il petalo ricoprire tutta la lunghezza del palo con questo secondo filo allora la prima cosa che io faccio di solito è fermare qui la perlina così arrotolo leggermente in modo da da non vedermi scappare le perline ok una volta fissato qui io mi appoggio perché vado meglio mi sento anche grande la foglia il senso è quello di accostare praticamente il filo a quello principale per prendere fondamentalmente la misura di quante perline mi servono come per le come per le petali che abbiamo fatto e praticamente rigiro come prima il filo attorno al palo adesso sì che ci siamo e andiamo avanti così non dico fino a quando finite le perline perché io ne ho mortato un metro e mezzo non sapendo esattamente quanto andare avanti comunque fino alla grandezza che fondamentalmente vi piace per fare aspettate che questo me lo tengo ok voilà cercate di stringere bene così poi non succede non vi scappano ok allora io ho visto varie petali e varie foglie però mentre ho visto i petali fatti anche un po a punta le foglie del del tulipano a me sembrano quasi sempre a punta e e quindi adesso facciamo un po la punta così vi insegno anche questa mi è scappata una perlina in frattempo sì ma questa non è troppo allora forse anche un po troppo chiaro sto vedendo non avevo la via di mezzo questo oscuro è un ritorno quindi sono passato per l'interno facendo la punta ok mi piace molto questa cosa perché questo filo più più grosso ovviamente tiene una consistenza diversa che fa una forte grande ovviamente sono capito perché mi piace fare le foglie si sprecano tra piccolette un sacco di perline ok e andiamo avanti così allora io direi che facciamo a cominciare a fare una sorta di punta della foglia visto che siamo dal terzo giro è bello che io non sto neanche guardando una cosa allora per fare la punta cosa bisogna fare bisogna aggiungere sul palo una due tre perline in base a un po a quanto sono grandi ovviamente in base a quanto sono grandi anche sto disfando la solina che teneva ferme perché tanto adesso non mi serve più allora l'idea è che per allungare bisogna in qualche modo arrivare tipo a fissare in questo punto la foglia o comunque un po prima un po dopo io tendo a farlo gradatamente e quindi qui sul palo centrale inserisco 23 perline adesso vado un po a occhio lo vediamo assieme anche perché la prima volta io vi faccio la foglia con voi vediamo se tre perline perché una ce l'avevo già inserita nella scappata prima diventa così veramente un po più centrale eccola aspettate ecco già diventa un po più a punta io onestamente forse è meglio farne due al prossimo giro 3 così facciamo una cosa più no ce ne stanno anche tra e tranquillamente ok e niente mi piace di più con due work in progress eccolo qua io so che mi sto facendo ombra però cercate ovviamente di girare sempre il filo dalla stessa parte in modo che abbiate una parte pulita e una un po più tra virgolette sporca con il filo ma insomma è giusto per capirci ok adesso rifacciamo un giro di qua ok ma se per considerare comunque di raddrizzare un po il filo capire quanto volete allargare la foglia eccetera eccetera prima di fissarlo ok adesso di nuovo e inseriamo vediamo se due perline oltre vediamo un po ne possiamo mettere anche tre questo giro io quando poi devo spingere il filo cerco sempre di vedere quanto mi serve cioè se ho messo il numero giusto di perline per chiudere qui vedete che mi avanza perché dipende sempre da quanto sta vicino a quello precedente ovviamente dovete prendere un po le misure e verificare qui per esempio altre due perline forse è meglio che le metto ok mi raccomando spingete sempre giù bene pauri tanto sono sicuro che avete sentito il clacson ok andiamo intorno cerchiamo di spingere sempre bene le perline in modo che non si vede il filo gli spazi capiscono 30 guardando nei video per un arrivo molto inserisci in uno allora qua spingiamo le benigio ne servivano fosse ancora di perline ma ok anche qua possiamo mettere altre tre o anche quattro qui sul palo centrale ovviamente questo lasciato molto comunque tagliarlo se mi seguite un po sapete che io non sto sempre lunga con le misure perché non vorrei trovarmi mai con che mi manca di un centimetro di filo per far qualcosa ok riprendiamo questo spingiamo giù bene che compra tutto ok abbiamo messo quattro perline questo giro se vanno bene sì ok e rigiriamo di nuovo io prima di farlo vedo quanto si allarga perché vorrei che rimanessero comunque belli aderenti l'uno all'altro queste file perché neanche sia proprio il massimo sta foglia di di tulipano nel senso non è che si allarga come foglia quindi quando poi rigirate il filo tende sempre un po a ad allargarsi ok e avanti uguale prima di nuovo tutta la lunghezza io cerco sempre di lasciare abbastanza aderenti quindi più o meno qua basta come vi mettete per un'altra perline ok e io direi che potremmo anche esserci farlo più lunga a parte delle perline sul filo neo vediamo si riscontra i due tiri non riesco ma vabbè ne faccio un altro vediamo un po si può fare un altro giro allora inserisco altre perline lo stesso tra l'altro per lì ne sono anche trasparenti non le vedete neanche fosse nel senso che non hanno l'anima argentata sono fatte così ma io inserite 4 quindi posso inserire altre 4 4 5 e questo è l'ultimo di lo che facciamo così ok mettiamo un'altra facciamo un po di lasco si è uguale e adesso io spero di avere così bello non devono infilare ma non vediamo di io ho visto una cosa che non intenzione di fare ho visto c'era qualcuno che fissava i fili tra di loro per fare modo che non si distanziassero troppo non sono tenuti di farlo aspettate che devo allungare se non riesco a fare il giro qui al rotolo di tutto tanto poi questo mi fa da da stelo poi va montato sulla bacchetta ok poi lo sistemiamo allora qui dobbiamo semplicemente stavo notando che c'è qui dobbiamo semplicemente sui tagli un bel pezzo rigirare verso l'interno decidete da che parte volete che si veda la foglia praticamente allora questo per me è il dritto fondamentalmente quindi taglio un pezzetto lo rigiro verso l'interno io tendo sempre a fissarlo magari sul secondo paletto giusto sul secondo giro di perline giusto per essere un po più sicura può sempre paura che poi si sfili però insomma più di quello non è che dobbiamo fare allora io sapete che resto sempre un po lunga allora rigiro verso l'interno ok poi mi aiuto con una pinza ritorno all'attacco e devo dire che in questi giorni di quarantena dovrei fare santi i genitori praticamente che si tengono a casa i figli di santa pazienza ok questo è anche tenete conto che questo è un filo da 0 80 tra l'altro quindi non andate benissimo a rigirarlo ma ok praticamente ciò basta mi basta solo per fissarlo in modo da essere sicura che non si sfili fondamentalmente cerco di tagliarlo vicino al palo in modo che non dia fastidio non potete schiacciare tanto perché sennò rompete le perline ok praticamente la foglia è fatta eccoci qua se poi voi avete voglia di fissare le file di perline con un filo intermedio però io onestamente non ho voglia di farlo perché poi quando poi lo piegate insomma la foglia resta quindi avendo usato uno spessore più grande resta ok andiamo avanti dobbiamo fare il centro che ridere allora il centro ha dei pistilli non so come si chiamino neri allora io adesso prendo un filo di tra virgolette scarto che avevo sono circa 40 centimetri e questo uso e facciamo semplicemente dei pistilli non ho messo anche trotte allora in base a quanto avete fatto grandi i petali ovviamente io non farei più di diciamo due centimetri non più di due centimetri per pistillo ne dobbiamo fare quattro quindi dobbiamo montare un po di perline allora ho infilato circa due centimetri e mezzo più o meno poi queste sono delle gutter man quindi non sono proprio regolarissime mi tengo 10 centimetri di filo qui da questa parte ho fatto l'asolina giusto per bloccarle un attimo allora prendo l'altro capo del filo scosto la prima perlina e ripasso il filo sulle altre tutte le altre praticamente sperando di imbroccarle tutte eccolo qui tiro tutto il filo facendo attenzione che non si formino asole eccetera ok e questo è il primo il primo pistillo praticamente adesso voi lo vedete magari scende un po perché ovviamente non è fissato ok ne dobbiamo fare altri tre aspettate che misuro sì diciamo che alla fine va bene così ok faccio gli altri tre e ci vediamo ok per fare il secondo ovviamente il filo che avete utilizzato e rigirato inserite altre perline fate esattamente la stessa cosa quindi scartate l'ultima perlina la saltate diciamo e inserite le perline su tutte le altre è andata avanti così per farli tutti e quattro ok l'ho già terminato se avete qualche dubbio l'avevo fatto anche per il papavero quindi vi lascio il link al video diretto qua sotto ultimo step dobbiamo fare un'altra parte centrale del tulipano io uso queste perline gialle perché non le ho tipo panna o comunque un po più più chiare quindi onestamente ho detto vabbè uso queste praticamente il tulipano ha una parte onestamente non so neanche come come si chiami e ha una parte centrale non dico che è fatta a stella ma è un po' chiara con delle punte sopra praticamente non so come spiegarvela allora io la faccio piccola piccola andiamo se riesco allora mi tengo sì ho tagliato circa 40 45 anche 50 fate centimetri di filo e me ne tengo almeno 15 anche 18 centimetri perché poi una parte ci servirà da rivestire comunque di per me anche 20 fate 20 allora ho messo 6 perline le richiudo ad asoletta ok e ne faccio altre due le tre solette le abbiamo fatte adesso molto circa due centimetri di perline gialle su entrambi i fili ok ok allora il senso è che questi adesso ne devo unito alcuna da qua una montura di ok allora adesso che sono fatte le tre aspettate che tolgo queste così vedete meglio adesso sono fatte le tre asoline le rigiro vicine 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 ok le posso anche fare un giro veloce per per fissarle ok poi prendo questi due fili e li arrotolo su se stessi fino a che che dopo un po ovviamente non non ve ne dà più la possibilità perché sono un po rigidi ok e poi avete questa specie di protuberanza che io non so come si chiami ma vi serve eccoci allora fatto questo ovviamente rigirate il filo anche qui per chiuderlo altrimenti vi scappano via tutte le perline ok qui poi tagliate l'eccesso ma insomma questa vi serve comunque all'inizio quindi passiamo al montaggio perché abbiamo fatto tutto proseguiamo con il montaggio allora prendo la parte appena fatta i quattro pistilli e questi lì praticamente arrotolo attorno a questa parte tanto poi sono mobili e li vedete così e rigiro già attorno a questo filo così questi due li abbiamo già fissati ok bene allora prendo la bacchetta che bello di questa pacchetta bacchettina e comincio già a fissare questo tanto questo comunque in centro sta vediamo se riesco a farlo un pochino più ok affissando qui vicino 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 ok dopo qui posso anche tagliare l'eccesso di filia per non fare troppo spessore bene adesso comincio poi lo sistemiamo adesso comincio a montare le foglie i petali allora questi vediamo se riesco a farlo vedere allora da questa parte vedete si vede meno l'anima centrale rispetto a questo lato bene questo all'interno e li montiamo ma forse sarebbe meglio se lo facessi tutto nello stesso verso che dite ma io la bacchetta rigida da 50 centimetri e non ho voglia di tagliarla perché voglio comunque tenermelo bene ok è il primo l'abbiamo fatto stesso discorso per questo vedete qual è il lato più pulito e lo tenete verso l'esterno li metto allora adesso dovremo in realtà già formarli per fargli fare la cupoletta e fiori che poi ho visto un sacco di forme diverse a parte i colori proprio di forme diverse di petali ma ho detto vabbè facciamo questo classico e lo rigiriamo qui praticamente ne facciamo tre un po più interni diciamo a coprire questo lato e poi tra li mettiamo più esterni anche questo vediamo qual è il lato più tra virgolette sporco e io non ce la faccio a piegare la bacchetta adesso praticamente poi viene così ma poi metterò la foto perché ovviamente il problema di queste bacchette che si sono belle rigide ma il problema è che quando poi la piegate non riuscite più ad attrezzarla quindi stavo valutando se aveva senso allora permettetemi che taglia un po' di foglio i fili che non ci servono più che così ce li togliamo dai piedi adesso io ho la taglieria non se non taglia ma è rotta diverso ok poi sapete che va sempre sistemato che mi metto ovviamente la foto adesso stesso discorso per il più pulito come lato e mettiamo a metà come ve lo faccio da qua qui si vede lo mettiamo a metà tra i petali che abbiamo già messo sempre alla base della della bacchetta stesso discorso per gli altri quindi questo lo abbiamo messo qua quindi questo sempre guardate sempre con il lato più pulito io lo metto sempre di fuori poi vanno bombati questi sono i due petali questo lo mettiamo all'esterno ok ci manca l'ultimo che va qua in mezzo se non mi sbaglio perché devo guardarlo fuori ok scusatemi ma con la lunghezza della bacchetta devo capirmi ok e questo è quanto praticamente lo abbiamo fissato adesso qui poi lo fissiamo con la buttaverga quindi non vi preoccupate se non è proprio aderente ok bene o in base a quanto volete tenere lungo lo stelo tagliamo anche questo questi avrebbero tagliati aperti ok praticamente è fatto adesso si ve la piego come ve la piego dopo vi faccio la foto faccio prima mettiamo adesso la gutta perca qui perché ovviamente la foglia non la mettiamo subito la mettiamo circa quest'altezza e quindi qui possiamo mettere una brutta perca allora con la pinza appiattisco questi veramente sa con il buco non ha avuta cerca cerchiamo di metterla proprio alla base base così ci siamo bene tutti i petali certo che i ragazzi di collaborare qualche giro così si fissa bene allora aspetta detto non posso ecco qua allora vado giù un poco in diagonale perché preferisco che sia abbastanza doppiata in questa parte dove ci sono i fili ovviamente io adesso lo dico ma questo è un fiore abbastanza pesante se sentite la necessità potete usare anche due bacchette se vi se vi serve ok vediamo se arrivati qua possiamo montare anche la foglia io direi di sì voi cosa dite sì dai allora facciamo che posso anche strapparla tanto bene così non ci portiamo dietro una gutta aperta ok vediamo se qua può andar bene ma direi di sì allora per evitare diciamo il troppo spessore io taglio qui il palo centrale quello più grosso così tanto comunque la sua funzione l'ha fatta e mi evito di avere troppo spessore lungo il gambo ok io posso fissare ok qui posso anche fermarmi adesso abbiattisco bene qua con la pinza e ricomincio questo pezzetto quando l'oggiate l'auta per una scala da 1 a 10 21 ok 15 avvicinato inizia con l'anima del filo facciamo qualche giro ok ok e ricopriamo tutto il pezzo fin ovviamente a quando volete io direi che usano forse mezza bacchetta in tutto ciò anche perché ho l'impressione che le foglie del tulipano siamo sempre abbastanza alla base con sbaglio e figlio sempre piantati per terra mia mamma raccolti non ci faccio caso ok io direi che già qui onestamente basta non ne farei di più quindi io taglierei anche la stica a metà e non la taglio perché mi serve l'altra pinza la super mega pinza per tagliare queste ok adesso che bello vi faccio la foto perché altrimenti non non capirete niente perché ho l'ingombro di tutta la bacchetta quindi non riesco a piegarvelo bene per farvelo vedere e vi faccio la foto dall'alto almeno riesco la metto dentro un vaso e niente praticamente l'unica cosa che resta da fare è bombare un pochino i petali per dargli proprio la parte proprio del fiore della coppa del tulipano ecco praticamente questo è il senso dovete fare ok spero di avervi almeno tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video ciao